Mister Coppa Italia è usata per fare un po' di test, è soddisfatto? Che cosa è soddisfatto e cosa no? Coppa Italia almeno fino a un certo punto si usa assolutamente penso un po' tutte le società per fare dei test e noi l'abbiamo usato per quello nonostante quello siamo molto tristi perché abbiamo perso la partita e credo che quei ragazzi che hanno giocato oggi che non giocano da mesi abbiamo fatto un primo tempo un po' così diciamo bloccati, parlo dei giovani, parlo dei giovani erano un po' bloccati invece secondo tempo si sono anche sbloccati e credo che meritavamo anche qualcosa in più. Insieme ai giovani hanno giocato naturalmente quelli che Grauso che per esempio è tre mesi e da luglio che si allena è la prima partita che fa e Polenghi che rienta dopo un mese e Sozio che è anche lui da luglio penso abbia fatto una partita e questa è la seconda quindi è normale, giusto, giustificato che possano giocare e debbano giocare questi che non hanno demeritato e la partita secondo me poteva finire anche in modo diverso perché il secondo tempo è stato più aperto per tutte le due le squadre loro sono stati bravi a finalizzare un contropiede noi avevamo avuto l'opportunità con Romanini una con Capano che ha preso il palo e e anche la punizione poi di Ugello insomma che poteva in un qualche modo girare la partita.